La parola musulmano indica un individuo che si sottomette alla volontà di Dio a prescindere dalla sua razza, nazionalità o etnia. Diventare musulmano è un processo semplice e facile che non richiede nessun rituale complesso né alcuna cerimonia. Puoi convertirti da solo, in privato, oppure puoi farlo alla presenza di altri. L'atto vero dell'accettare l'Islam è solo tra te e il tuo creatore. Se qualcuno ha un desiderio vero di diventare musulmano e ne ha piena convinzione e crede veramente che l'Islam sia la vera religione di Dio, allora tutto quello che ha bisogno di fare è pronunciare la shahada, cioè la testimonianza di fede, senza indugio. Pronunciando la testimonianza di fede o shahada con fede sincera e convinzione, si entra nell'Islam. Quando si abbraccia all'Islam unicamente per la compiacenza di Dio, tutti i peccati precedentemente commessi vengono perdonati e si inizia una nuova vita. Il tuo registro è pulito, come se tu fossi appena venuto alla luce. Dovresti poi cercare di mantenere il tuo registro più pulito possibile e sforzarti di compiere quante più buone azioni possibili. Ecco i vari passi. 1. Assicurati di sapere bene cosa significa essere musulmano e di essere preparato a cambiare la tua vita in meglio. 2. Ogni azione inizia con l'intenzione. Fai l'intenzione nel tuo cuore di accettare l'Islam come tua fede. 3. Pronuncia la testimonianza di fede, shahada, di io testimonio, la hilah illallah, Mohammed rasulallah. Le parole arabe significano non c'è vero Dio, nessun altro è degno di essere venerato, eccetto Dio e Mohammed è il suo vero messaggero e profeta. Una volta pronunciate queste parole con convinzione e comprensione, si diventa musulmano al cospetto di Dio. 4. Se puoi, fai una doccia. Simbolicamente, ti ripulisce dal passato. 5. Per diventare un membro della comunità islamica e prendere parte agli eventi della comunità, cerca il centro islamico o la moschea più vicina e abbi dei testimoni alla tua shahada. Un certificato islamico può essere richiesto per comprovare il tuo ingresso in Islam. Contatta il tuo centro islamico locale per averne uno.